In studio Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio e benvenuti a MTG. Non si placano le reazioni ad una sentenza che in molti ritengono ingiusta sulla condanna a nove anni di reclusione e inflitti a Rosario Greco che ha travolto e ucciso con un SUV Alessio e Simone D'Antonio. Numerosi commenti sul web ma anche dal mondo politico a commentare la sentenza Cesare Placanica, presidente delle Camere Penali di Roma. In questi casi parliamo di tragedie assolute. È ovvio che le sentenze si possono criticare. Prima di criticare la sentenza però bisognerebbe conoscere bene gli atti della sentenza stessa. Non è facile fare né una critica né una difesa della sentenza. Sono le dichiarazioni riportate sulla DN Cronos di Cesare Placanica, presidente delle Camere Penali di Roma, intervenuta ai microfoni della trasmissione L'Italia Sedesta sul Radio Cusano Campus, sulla condanna a nove anni inflitta a Saro Greco che con il suo SUV travolse e uccise Alessio e Simone D'Antonio. Fino a qualche anno fa, prima della legge sull'omicidio stradale, questo signor Greco, afferma Placanica, sarebbe stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere con l'abbreviato e a cinque anni con il massimo della pena. Con l'omicidio stradale il massimo della pena è 18 anni, si arriva a nove perché il nostro sistema prevede il rito abbreviato che consente al sistema giudiziario italiano di risparmiare moltissimo in termini di energia, di tempo e di impiego di risorse umane. Questo risparmio, dice l'ordinamento giuridico, ti comporta un terzo di pena in meno, il che significa che 18 anni diventano 12. Il PM ne aveva chiesti 10, il giudice ne ha dati 9. Poi ovviamente c'è il punto di vista dei familiari, dichiara ancora Placanica. È chiaro che se fosse successo a mio figlio io avrei chiesto la pena di morte. Ma noi non siamo in America, dice. Abbiamo un altro sistema giudiziario. Una sentenza considerata ingiusta, prima di tutto dai genitori, ma anche dalla gente comune e dal mondo politico che affida ai social il suo sfogo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, scrive 9 anni di carcere per aver tra volte ucciso i due cuginetti di Vittoria di 11 e 12 anni, imbottito di droga e alcol. La sentenza del Tribunale di Ragusa conferma una volta in più la necessità di mettere mano alla riforma del codice penale e dell'intera giustizia. E ancora, la vita di un bambino non può valere così poco. Bisogna eliminare il rito abbreviato per i reati più gravi e cancellare buone condotte e sconti di pena. Un abbraccio affettuoso alle famiglie dei piccoli Simone e Alessio, non vi dimentichiamo. E in provincia di Ragusa, ad esprimere la vicinanza alle due famiglie, il movimento politico sviluppo ebleo. Grande amarezza dopo aver appreso il contenuto della sentenza. Ci stringiamo in questo momento all'immenso dolore dei familiari e dei cuginetti d'Antonio, soprattutto le mamme e i papà riporta la nota. Si rinnova un immenso dolore per questo motivo, rivolgiamo un invito ben preciso ai vittoriesi, quello cioè di mantenere alta la memoria di Alessio e Simone. Chiediamo ai nostri parlamentari e legislatori di attivarsi per rivedere la legge e far sì che la stessa possa essere modificata. La vita di due bambini non può valere nove anni di reclusione. E a chiedere un inasprimento della pena sul reato di omicidio stradale, anche la famiglia di Martina Aprile, la giovane di 25 anni, travolta e uccisa in Viale della Pace, a Cavadaliga, il 15 luglio del 2019. A MTG l'intervento dell'avvocato Giovanni Favaccio, difensore del 34enne che investì la donna. In asprimento della pena, la legge deve essere cambiata. E' quanto chiesto a gran voce dai cittadini e dalle famiglie delle vittime sul reato di omicidio stradale. Lo chiedono a gran voce i familiari di Martina Aprile, la giovane di 25 anni, travolta e uccisa da un'autovettura, il 15 luglio del 2019, in Viale della Pace, a Cavadaliga. Il mezzo era condotto da un 34enne, poi arrestato. Guidava sotto l'effetto di cocaina e metadone. L'imputato ha chiesto di patteggiare la pena, 4 anni e 8 mesi. Il 23 giugno la sentenza. Per il legale della famiglia Aprile, Gisella Scollo, la pena sull'omicidio stradale richiede una revisione. Oggi interviene l'avvocato Giovanni Favaccio, che difende il 34enne. Lui ha confermato immediatamente le sue piene responsabilità e ha fornito una corretta ricostruzione dei fatti come erano avvenuti. Bisogna aggiungere che lo stesso convive adesso con il proprio senso di colpa per la morte della ragazza. Si è trattato di un caso, quello del signor Ferraro, di un ragazzo educato, di un ragazzo chiuso, con alcune problematiche personali. Il sottoscritto in uno al collega Giovanni Bruno, che mi assiste nella difesa, abbiamo optato per un patteggiamento concordato con il signor Procuratore Capo della Repubblica, il dottor Danna, per applicare la pena stabilita, evitando così una inutile, inconducente e impossibile linea difensiva, stante il fatto che il signor Ferraro sia assunto fin da subito le sue responsabilità in merito all'incidente. Parliamo ancora di cronaca. Licenziato dall'ASP di Ragusa, il medico legale Giuseppe Iuvara arrestato per corruzione il 20 febbraio. Giuseppe Iuvara è stato licenziato. La commissione disciplinare dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa si è espressa sui provvedimenti da adottare nei confronti del medico legale. Manca la delibera, ma la notizia è ufficiale. Il medico legale di alcuni tra i più importanti casi registratisi in territorio ragusano, come ad esempio il caso Loris, il caso di Maria Zarba, o l'omicidio di Peppe Lucifora, solo per citarne alcuni, non sarà più dipendente dell'azienda. Iuvara fu arrestato in flagranza di reato il 20 febbraio per corruzione. Ad incastrare il medico le intercettazioni e le telecamere nascoste all'interno del suo studio, dove il 61enne aveva ricevuto due donne. Una delle due era la figlia di una signora, che da lì a breve avrebbe sostenuto la visita per il riconoscimento dell'accompagnamento, mentre l'altra aveva fatto da tramite. Iuvara, per far passare subito la pratica con il riconoscimento dell'invalidità civile, si sarebbe fatto consegnare 200 euro prima della visita e mille al termine della stessa, e dunque al lavoro finito. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Ragusa ha fatto luce su un giro di corruzione a cui il medico di 61 anni originario di Siracusa si era prestato, non escludendo che il caso che ha permesso di incastrarlo fosse l'unico. Ricordiamo che in quell'occasione le due donne furono pure arrestate e poste ai domiciliari. Si chiama Operazione Fuga di Gas, quella eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, che ha portato al maxi sequestro in provincia di Enna di 15.000 bombole GPL. C'è anche la provincia di Ragusa, tra quelle in cui venivano vendute bombole GPL sequestrate dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, che ha posto sigilli ad oltre 15.000 bombole. Un maxi sequestro nell'ambito di un'indagine per frode coordinata dalla locale procura. Le bombole risultavano pericolose per il rischio di incidenti ed esplosioni e risultate riempite con quantitativi di prodotto inferiore, ha dichiarato. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di una società innese attiva nel settore di imbottigliamento di gas liquidi. Il rappresentante legale e un socio dell'azienda, entrambi originari di Catania, sono stati denunciati in concorso per frode nell'esercizio del commercio, divieto di fabbricazione, detenzione, trasporto e vendita di prodotti esplodenti. Le bombole erano vendute all'ingrosso in diverse province della Sicilia orientale, tra cui come detto Ragusa, Caltanissetta, Enna e Messina, e presso operatori della Calabria e del Lazio. Le fiamme gialle insieme ai Vigili del Fuoco hanno sequestrato le bombole di varie capacità, sia piene che vuote, con una capacità complessiva di un accumulo di 222.107 kg. Il prodotto sequestrato, circa 30.000 kg, se emesso sul mercato, avrebbe fruttato ricavi per circa 600.000 euro. In particolare le bombole erano custodite senza rispettare gli obblighi di sicurezza, sprovviste in molti casi delle previste periodiche revisioni e con i sigilli di garanzia. Il rappresentante legale e il socio dell'azienda sono stati anche denunciati per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali, per aver sottratto GPL o altro gas esplodente da alcune bombole, superando le soglie consentite nelle operazioni di riempimento e travaso dei combustibili. Le fiamme gialle stanno indagando se il prodotto fosse stato rivenduto in nero, evadendo le imposte gravanti sulla vendita di questi prodotti. Devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio due extracomunitari arrestati dalla Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato due spacciatori colti in flagranza di reato mentre cedevano droga a minorenni. Sequestrate anche dosi di asce e marijuana, somme di denaro, quale provento della vendita. Sabato pomeriggio è arrivata in questura la segnalazione di un assembramento dentro un parco di Via Natalelli a Ragusa. Giunti sul posto, gli agenti hanno da subito intuito che si potesse trattare di spaccio, notando anche un capannello di ragazzi che confabulavano tra loro. Alla vista della Polizia, due extracomunitari sono scappati mentre cercavano di disfarsi di un involucro che poi è stato recuperato con dentro dosi di ascici pronti per la vendita. Dopo un inseguimento, gli agenti hanno bloccato i due e dalla perquisizione sono state rinvenute numerose stecche di ascici confezionate singolarmente e delle bustine di marijuana. Recuperata anche la somma di oltre 700 euro in banco note di piccolo taglio provento dello spaccio. Condotti in questura, i due extracomunitari richiedenti protezione internazionale sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e adesso si trovano in carcere. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria ma anche di un secondo mezzo proveniente dal comando provinciale di Ragusa per tentare di spegnere un grosso incendio divampato lungo la SP 105 all'uscita di Scoglitti nei pressi di un canneto. Le operazioni sono ancora in corso, le fiamme alimentate dal vento hanno l'ambito anche le serre vicine rendendo difficile lo spegnimento. Un'ondata di maltempo in queste ore in provincia di Ragusa le immagini che state per vedere si riferiscono a qualche minuto fa proprio nella città di Ragusa. Grandine e pioggia battente. Le condizioni meteo però dovrebbero già rientrare nel pomeriggio di oggi. Un temporale inaspettato a cocchiacolto di sorpresa un po' tutti in quanto eravamo già abituati alle calde, temperaturi primaverili e anche estive e al momento non si registrano danni. Cambiamo adesso argomento. L'ARS respinge la mozione di censura contro l'assessore Scavone ma l'opposizione rilancia presentando mozione di sfiducia contro il governatore Musumeci. La questione riguarda sempre la gestione della cassa integrazione inderoga in Sicilia con numeri della regione differenti da quelli dell'Inps. Non passa la mozione di censura nei confronti all'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone. 34 i voti contrari e 25 i favorevoli. L'opposizione riteneva ingiustificabili i ritardi accumulati e gli errori compiuti nella vicenda della cassa integrazione inderoga in Sicilia. Ieri la seduta d'aula durante la quale è tornato anche il governatore Nello Musumeci che ha ascoltato tutti gli interventi dei deputati e contro il quale adesso l'opposizione ha deciso di rivolgere una nuova mozione di sfiducia ad annunciarlo il capogruppo dei 5 Stelle, Giorgio Pasqua, intervenendo in aula ieri. La mozione contro Scavone, dicono i pentastellati, ha avuto quantomeno il merito di far confrontare governo e Parlamento su un'importante questione e quello di far tornare in aula Musumeci che a questo punto faremo tornare a Sala d'Ercole per una nuova mozione, quella di sfiducia nei suoi confronti. E a puntare il dito contro il governatore Musumeci e anche il PD con il deputato Nello Di Pasquale. La cosa brutta è che per portare in aula il presidente della regione siamo costretti a presentare una mozione di censura e da tre settimane che il presidente non viene e quando era venuto per la finanziaria ha fatto un intervento contro il Parlamento e se ne è andato e quello che gli ho ricordato io durante il mio intervento è proprio che non possiamo essere costretti a presentare mozioni di censura o di sfiducia per portarle in aula. E lui doveva venire a confrontarsi con il Parlamento proprio sulla fase 2. Abbiamo ricordato al presidente Musumeci che lui deve fare la sua parte, la deve fare appieno. Intanto è di ieri la nota della regione che afferma di aver completato le istruttorie delle 43.880 istanze presentate dalle aziende siciliane per ottenere la cassa integrazione in deroga. La regione ha trasmesso 31.791 pratiche all'Inps per il pagamento e le spettanze direttamente ai lavoratori. Numeri sui quali interviene però anche la stessa Inps con un nuovo aggiornamento attraverso il direttore regionale Maria Sandra Perrotta. Nei comunicati diffusi, dice il direttore regionale, apprendiamo che gli uffici regionali hanno completato l'esame di queste istanze. È un dato senz'altro positivo dal quale si ricava che nei prossimi giorni dovrebbero transitare nei nostri sistemi all'incirca altre 13.500 domande. Ed è la stessa Inps a fornire un dettagliato quadro della situazione, con numeri però differenti rispetto a quelli della regione. I decreti pervenuti secondo l'Inps sono 30.324, dunque una differenza di circa 1.400 pratiche rispetto ai dati diffusi dalla regione. L'Inps evidenzia anche che dei decreti giunti, 638 sono quelli restituiti per difformizzare. Mentre 408 sono quelli ancora da restituire, sempre per difformità. I decreti lavorabili sono 29.278 e quelli autorizzati 28.319. 959 quelli che prevedono un supplemento di istruttoria. Questa mattina a Vittoria, sit-in dei lavoratori della Tegra, servizi, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, alla base della protesta la carenza di sicurezza sul lavoro e alcuni problemi legati al contratto di lavoro. Ci troviamo a Vittoria, nella piazza principale, in piazza del Popolo, dove questa mattina si è svolto un sit-in statico. Come vedete alle mie spalle, in questo momento i lavoratori della Tegra, ovvero la società che gestisce il servizio della raccolta dei rifiuti in città, sono in protesta supportati da cinque sigle sindacali. In particolare, si chiedono maggiore sicurezza sul lavoro, si chiedono dei diritti, ovvero ci sono stati dei licenziamenti, non ci sono state delle riassunzioni, quindi per motivi che poi non sono stati forniti dall'azienda. Si lamenta anche il mancato dialogo con l'azienda, quindi manca un confronto anche tra le sigle sindacali, lavoratori e l'azienda. Nel caso specifico sono 12 i lavoratori che non sono stati riassunti, in questo caso quindi 12 famiglie alle spalle in difficoltà, soprattutto in un periodo difficile come questo. E poi ci sono anche altre problematiche legate ai contratti, anche per gli amministrativi. Non è stato rispettato quello che prevede il contratto collettivo nazionale, l'articolo 6. L'articolo 6 dice che materialmente vanno transitate tutti i lavoratori, con le stesse condizioni, le stesse qualifiche, gli stessi livelli, vanno transitati da un appalto all'altro. Tra parentesi aggiungiamo che siamo in presenza del coronavirus, dove la legge oggi vieta che nessuno può essere licenziato. L'azienda ha invece inteso, in maniera del tutto arbitrale, ha tentato di fare un'operazione escludendo 12 lavoratori. Questo è un atto di abuso. Qui, nonostante reterati inviti da parte di tutte le organizzazioni sindacali, mai una volta i commissari si sono degnati, una sola volta di partecipare ad una nostra riunione. Ad oggi non abbiamo niente per iscritto, non abbiamo nessuna motivazione che non ci hanno assunto con la Tecra. Ci ritroviamo 12 famiglie a casa che oggi non sappiamo neanche come sfamare i nostri figli, io per esempio ce ne ho 4. Cosa chiedete? Ma intanto che il cantiere venga adesso in sicurezza. Questa è la prima cosa perché proprio in questo momento, con il discorso del coronavirus, i problemi sono molteplici. E quindi alla base si deve essere la sicurezza sul lavoro. Della mancata assunzione di queste 12 persone, per noi è stato come... ci è caduto il tetto della casa addosso, perché non ce lo sposavamo. Nessuno ci sa dire per quale motivo 12 operai sono stati lasciati a casa da un giorno all'altro per un cambio di ditta che nel capitolato avevano l'obbligo di riprendere questi 12 operai, perché dovevano prenderli tutti. E' una cosa ingiusta lasciare a casa 12 operai, 12 famiglie senza soldi, ma più che altro i nostri diritti, il diritto del lavoratore, che è attestato così, senza dignità. Come mai proprio oggi sono tutti dall'altra parte? E qua non c'è nessuno, dove sono? Tutti qua questi uomini da aspettare. Aspettare chi? Chi siamo noi? Nessuno. Parliamo ancora di problemi economici, perché migliaia di famiglie a Catania sono rimaste senza sussidi e senza buoni spesa. Da qui la protesta, la ricerca di risposte e aiuti. Sono circa 10.000 le famiglie catanesi che sono rimaste escluse dalla buona spesa, sussidio messo a disposizione dai comuni grazie a fondi statali e regionali. Nello specifico la regione ha già inviato una prima tranche di 1,8 milioni di euro alla comune Etneo. Alcune famiglie, però, per parametri troppo stringenti previsti dal bando, sono rimaste fuori. Da qui l'elemente è attraverso il comitato a reddito casa-lavoro e la richiesta di un incontro urgente con l'assessore a ramo. Incontro che si è svolto proprio qualche giorno fa e dal quale è emerso che si cercherà di allargare quelle che sono le maglie del bando. I nuclei familiari possono essere molto eterogeni da questo punto di vista, ma noi sappiamo che nella nostra terra, in Sicilia, a Catania, c'è una quantità di lavoro sommerso molto ingente e quindi questo non permette neanche alle famiglie di avere anche delle garanzie rispetto a quelli che sono i loro diritti da questo punto di vista. Cosa chiedete al Comune, alle istituzioni per le prossime settimane? Quello principale è sicuramente sullo sblocco di questi fondi regionali che sono 6 milioni e 8 e dei quali il 30% verrà stanziato entro due settimane, almeno così ci ha detto l'assessore, per sbloccare questa nuova misura del buono spesa regionale, sostanzialmente. Gli altri punti invece di cui abbiamo discusso sono stati quelli della formula di questo buono spesa, di questo sussidio, come una formula anche reiterabile e continuativa per dare comunque una risposta a un'emergenza economica e sociale che si è aggravata durante il coronavirus ma che era già presente chiaramente anche nei mesi e negli anni precedenti. Anche da questo punto di vista abbiamo avuto comunque un feedback, un positivo feedback dall'assessore che si è dato disponibile anche nel fare pressione affinché i fondi del PONmetro di quest'anno vengano stanziati il prima possibile che vengano comunque dirottati per dare una continuità a questi sussidi qua che servono alle famiglie. E parliamo di un'altra protesta, quella vittoria dei cittadini che lamentano la mancanza di acqua, una protesta, un sit-in di protesta di Nancy Palazzo Iaco. L'acqua è un bene primario, una necessità e i cittadini vittoriesi la reclamano a gran voce. Stamattina una protesta, un sit-in statico con numero limitato di partecipanti così come hanno richiesto le forze dell'ordine per motivi di sicurezza. Stamattina hanno fatto sentire a gran voce le loro necessità, il proprio bisogno perché la cadenza idrica a Vittoria è un problema che si ripropone periodicamente. L'organizzazione della manifestazione è stata da parte del Comitato Acqua Bene Comune, hanno partecipato il Partito Socialista Italiano, articolo 1, Sorgivittoria e il PD. Diverse le associazioni che stamattina si sono riunite nell'intento comune di avere delle risposte e trovare delle soluzioni. Questa città non può permettersi ormai di avere dei quartieri in cui l'acqua arriva con una pressione insufficiente. Questa città non può permettersi di chiamare le autobotti e non avere immediatamente il servizio adeguato ma soprattutto domando e dico ho visto un link sul sito del Comune, sul profilo del Comune nella quale si dice che si sta provvedendo a recepire nuovi pozzi. Sono proposte che il coordinamento Acqua Bene Comune già da un anno ha fatto. Dopo un anno nel cuore della notte, ieri sera, abbiamo saputo che pare che vorrebbero impegnarsi su questo. Domando e dico, lo dovevano fare adesso seppur meglio tardi che mai. Se c'è una forte sottoprotazione del problema, una disorganizzazione che fa spavento. Lei deve pensare che per alcune, non so quante settimane, una saracinesca, si doveva manovrare questa saracinesca nel punto di smistamento dei serbatoi e praticamente per tre mesi qui non c'è stato nessuno. Il problema delle autobotte a pagamento, l'insufficienza delle autobotte comunali e lo sviluppo di un plorito commercio che abbiamo denunciato. Per quanto riguarda la tracciabilità dell'acqua, quest'acqua da dove viene? C'è qualcuno che la controlla? E perché non viene fatturata ai cittadini quest'acqua? Prego. Allora, io sono nel quartiere di centro e diciamo che alcune vie sono, insomma, arriva. In alcune vie, proprio quella accanto a me, per esempio, non arriva per niente. C'è una strada proprio che sono sempre a secco e hanno problemi. In una famiglia che c'è un disabile, che diventa tutta la famiglia disabile e arrivano 500 litri d'acqua, 1000 litri d'acqua che abbastano, se è vero, per mezza giornata. Il disabile o la famiglia disabile, come fa? Vittoria è una città che alcuni anni fa aveva affrontato e risolto il problema delle acque perché a Vittoria ci sono state per anni amministrazioni che hanno avuto una politica delle acque che è venuto dopo, negli ultimi anni, fino a ora, sconosce completamente il problema dell'acqua e cioè come affrontarlo e risolverlo. Intanto la Commissione straordinaria nella persona di Filippo Dispenza ha fornito una replica per quanto riguarda le proposte messe in campo e quelle che verranno attuate, così come hanno detto, nel breve periodo. Ieri a Palermo ho incontrato anche l'assessore all'ecologia e anche chiaramente alle acque. Quindi noi ci siamo sempre mossi per fare il bene della città di Vittoria. Chi dice il contrario è un bugiardo, è un ipocrita. Entro quando la condotta è nuova? Ma entro quando la condotta è nuova non dipende da noi. Noi abbiamo il nostro compito, il nostro dovere è presentare i problemi, proporre le soluzioni, dopodiché non compiete più a noi. No? Se questa questione va avanti da circa 40 anni, come dicono i tecnici, perché non lo dico io, vuol dire che forse in passato non è stato fatto abbastanza. No? Non lo dico io, lo dicono i tecnici. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità. Seconda parte del nostro telegiornale e torniamo a parlare delle iniziative dei privati a Cavadaliga. L'assessore all'ecologia del comune di Scicli, Bruno Mirabella, risponde alle accuse mosse nei suoi confronti da privati cittadini e partiti politici riguardo le iniziative dei privati che hanno ripulito area verde e luoghi di aggregazione in occasione di alcuni eventi nati dai volontari. Tra questi, uno promosso dai portatori di gioia a Scicli e un altro promosso da un gruppo Facebook, Cavadaliga merita di più. Noi ci siamo trovati in una condizione di emergenza che è quello che facevamo in due mesi e mezzo. Adesso i cittadini lo pretendevano in 15 giorni. Non c'è altro da dire. Da tutto questo punto di vista è chiarissimo. C'è stato il lockdown, due mesi di blocco. Però c'è anche da dire, assessore, e non dobbiamo nasconderci dietro un dito, che molti degli interventi di cui si parla oggi sono segnalazioni che appartengono all'alba dei tempi perché sono segnalazioni di qualche anno fa, di diversi mesi fa, ben prima del lockdown. Guarda, noi stiamo provvedendo, nel senso che potete uscire a Cavadaliga, oggi ci sono gli operai del comune che stanno scerbando tutta la parte di vie che non è stata interessata dai volontari di Cavadaliga. Abbiamo due squadre, abbiamo anche avuto dei problemi. Ci vuole una trasmissione a parte per capire l'eredità che ho avuto dal punto di vista del settore ecologia. L'attenzione dal punto di vista della programmazione c'è e c'è stata. Sulle precisazioni della Lega, in particolare del consigliere Enzo Giannone, che lamentava la poca attenzione per diverse zone della città, in particolare su Cavadaliga, Mirabella sottolinea La Lega si lega da sola. Il consigliere Giannone sa perfettamente i problemi che abbiamo riscontrato. Quindi mi sembra strano che dica queste cose. Sulla richiesta di applicazione del baratto amministrativo da parte della Buscema, che promosse il provvedimento, approvato poi in consiglio comunale nel 2018 e mai applicato, l'assessore all'ecologia chiarisce. Condivido perfettamente quello che ha detto. La Buscema ha già preparato un regolamento. Nei prossimi giorni l'assessore Fiorilla lo incardinerà e sarà presentato in commissione. Sulla Morana dei 5 Stelle che puntualizzava come l'iniziativa dei privati non potesse sostituirsi alla calendarizzazione corretta di interventi, l'assessore risponde. Mi dispiace che la dottoressa Morana faccia questo intervento anche perché non l'abbiamo vista a Cavadaliga, quindi le cose le avrà viste il giorno dopo. La questione che ha programmata alla fine non abbiamo avuto il granchi in questi giorni né quello del comune né quello della ditta. Stamattina è iniziata. Ritorniamo a parlare della fase 2 per l'apertura dei confini dell'isola. Si dovrà attendere la conferenza Stato-Regioni. L'apertura dei confini in Sicilia dipende dalla curva epidemiologica. La data che viene guardata tuttora con attenzione dalla Regione è quella del 3 giugno. C'è un'ordinanza in Sicilia che vincola gli spostamenti sino al 7 ma questa potrebbe essere non confermata, anticipata o posticipata. Al momento sottolineano dalla Regione non ci si può pronunciare con certezza. La decisione slitta anche in base ad un incontro fissato nell'agenda di governo per i prossimi giorni. Una conferenza Stato-Regioni dove sarà tracciata la linea da seguire per le Regioni dato vincolante il numero dei contagi e le ripartizioni regione per regione. Perplessità viene mostrata da Federalberghi che non vuole entrare in polemica ma evidenzia come l'assenza di una data di una linea di indirizzo porti la categoria a vivere un paradossale momento drammatico con la consapevolezza che sarà difficile rialzarsi. Prima la salute evidenzia Federalberghi le scelte vanno dettate da questo unico obiettivo anche se per noi evidenzia Nico Torrisi presidente regionale di categoria è una situazione più che paradossale per noi che per prima abbiamo subito l'onda d'urto economica del covid-19 Riaprono palestre e piscine siamo andati a vedere quali le regole da seguire. Dallo scorso 25 maggio hanno riaperto in quasi tutte le città piscine e palestre allora abbiamo deciso di fare un giro all'interno della palestra le regole sono chiare un distanziamento di almeno due metri perché l'attività fisica è più intensa e quindi bisogna avere appunto un distanziamento di due metri un metro all'interno dello spogliatoio e anche all'interno e allo spogliatoio regole precise bisogna mettere tutto all'interno di un armadietto se non c'è un armadietto o se c'è bisogno di mettere le cose diversamente la palestra può fornire un sacchetto viene misurata la febbre si tiene un registro per segnare chi nei 14 giorni viene e quindi va in palestra per le piscine allo stesso tempo regole rigide con un distanziamento ben preciso La prima regola è sicuramente la prenotazione ogni cliente deve prenotare l'attività sia in palestra che in piscina prima di accedere al centro in modo tale noi così riusciamo a contingentare gli ingressi e a garantire il distanziamento sociale necessario abbiamo posizionato per terra diversi adesivi che segnalano l'ingresso l'uscita ma anche proprio dove le persone devono posizionarsi quindi sia all'interno del centro ma anche nelle sale corsi e negli spogliatoi gli attrezzi in sale attrezzi sono stati allontanati e distanziati di almeno due metri l'uno dall'altro dove non è stato possibile farlo sono stati segnalati da apposite segnalazioni così non verranno utilizzati altre misure che abbiamo adottato sono sicuramente le mascherine a tutto il personale per quanto riguarda la reazione bisogna pulire ovviamente i filtri e dice l'INAIL bisogna controllare anche verso dove quest'aria che non è ricircolo ma che viene espulsa fuori viene appunto espulsa sì 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 esattamente abbiamo anche per quanto riguarda queste situazioni tecniche abbiamo provveduto a sanificare e a cambiare dove era necessario i filtri e verificare appunto l'uscita della reazione in maniera corretta quindi anche da questo punto di vista ci sono colonnine di gel igienizzante davanti a ogni sala corsi davanti a ogni ambiente anche all'ingresso per permettere alle persone di sanificare le mani in maniera continua la mascherina è obbligatoria per l'ingresso nella struttura però nel momento in cui si effettua l'allenamento e quindi già si comincia ad allenarsi può essere tolta perché comunque viene sconsigliata durante l'attività fisica Martina ci siamo spostate in piscina anche qui vediamo la distanza ovviamente che viene rispettata 7 metri quadri per ogni persona e poi il distanziamento di 2 metri mentre si fa l'attività fisica una corsia se prima ospitava 10 persone adesso Massimo ne può ospitare 5 esattamente 7 metri quadri per quanto riguarda chi fa nuoto e quindi ha uno spostamento in acqua invece oltre 2 metri di distanza per chi fa un'attività in cui resta ferma e nello stesso punto come per esempio l'acqua gym 12 merli hanno spiccato il volo liberati dai volontari che li hanno salvati da morte certa è accaduto in contrada a Torre Palazzella a Modica hanno spiccato il volo verso la libertà 12 bellissimi piccoli di merlo cresciuti e ancora vivi grazie alle cure di un gruppo di volontari che li hanno salvati da morte certa nel momento in cui è venuta la sostituzione infatti a inizio maggio delle ampioni energia solare incontrata a Torre Palazzella a Modica sono venuti alla luce decine e decine di niti di specie protette tra cui anche i merli nel corso dei lavori molti nidi sono precipitati a terra e con essi anche il contenuto le uova questi piccoli di merlo sono gli unici superstiti delle numerose uova contenute nei nidi distrutti l'intervento di uno dei residenti che ha allertato diversi volontari con un post su facebook ha scongiurato il peggio abitando qui una mattina mi sono ritrovato praticamente a uscire fuori ho visto questa gru che stava praticamente scrollando questo lampione che andava smontato e da lì ho visto una cosa che praticamente scendeva da lì ho dato l'allarme su facebook ho cercato di creare un post il più velocemente possibile grazie a Dio è stato condiviso nella massima velocità di tutti i modigani li ho raccolti li ho cibati ogni ora a cibarli perché da mezzanotte alle 5 di mattina dormono poi dalle 5 di mattina in poi cominciavano a fare baccano praticamente io mi sono limitato anche nelle uscite e quindi oggi vederli volare per me è una grandissima soddisfazione qual è l'emozione di vederli poi spiccare il volo? l'abbandono che ci lasciano in sostanza cioè la separazione però è giusto che sia così perché ognuno deve prendere la propria vita il proprio volo emozioni contrastanti per i volontari che si sono presi cura di loro il paziente lavoro dei volontari tra cui anche Giovanna Cicero Molè Francesca Cuccio è stato fondamentale ma occorre anche informare e sensibilizzare sul tema purtroppo durante le manutenzioni che da nord a sud avvengono in ogni comune per la potatura di alberi o altri tipi di manutenzione molto spesso succede che non vengono rispettati i periodi di nidificazione e quindi tantissime volte succede che i nidi vengono letteralmente distrutti devo dire che l'amministrazione si è subito prontata a interrompere i lavori Cosa devono fare i cittadini nel caso in cui si rendono conto che c'è un nido non solo di Merli ma anche di altri volatili? Questa è un'ottima domanda perché purtroppo ad esempio la potatura o altri lavori di manutenzione avvengono anche nelle proprietà private a meno che non si tratti di manutenzioni urgenti perché ci sono dei pericoli imminenti è sempre bene rimandare anche perché diciamo che si tratta di fauna selvatica protetta Firmato il contratto con l'impresa giudicataria Alp Consorzio Stabile per i lavori del progetto riguardante l'adeguamento sismico ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'istituto tecnico commerciale Archimede di Modica per un importo di 4.845.000 euro la ditta 731 giorni a disposizione dalla consegna dei lavori per ultimare l'opera pubblica e con questa notizia è tutto grazie per la vostra attenzione buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti